San Giovanni Valdarno, i gnoti tentano di scassinare lo sportello Bancomat di Banca Toscana di via Lungarno-Reni, ma il sistema d'allarme sporca le banconote, ladri costretti a fuggire. Disabile nascondeva sette panetti di hashish arrestato, i poliziotti di Arezzo lo hanno seguito per le vie del centro e dalla fine arrestato per detenzione di droga ai fini dispaccio, lui era un insospettabile. Giunta comunale di Fighine Incisa, Silvia Fossati, nuovo assessore a scuola e sociale, avvocato classe 75, si occuperà anche di pari opportunità. Nino Frassica, ospite d'onore del Walk Film Festival a Terra Nuova, dopo battute e domande sulla sua carriera, premiato con il premio speciale dalla organizzazione, insieme a lui anche due attori della serie TV Don Matteo.